L'orologio del mattino dice ai bimbi fate presto, su mettete il grembiulino che all'asilo bisogna andare. L'orologio del mezzogiorno dice ai bimbi fate presto, su mettete la babaglina che la pappa bisogna far. Tichetacche, 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 e tichetacche, 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 l'orologio della sera dice ai bimbi fate presto, su mettete il pigiamino che la nanna bisogna far. Tichetacche, 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 tichetacche. Grazie a tutti.